Buongiorno, anche oggi facciamo i messaggi dell'Arcangelo Gabriele. Allora, il messaggio di oggi è Credi in ciò che crei, confida nel potere della creatività di Dio che si manifesta attraverso di te. Allora, questa carta significa che hai talento e che sei anche molto sensibile. Le due cose vanno di pari passo perché le emozioni forti alimentano la creatività. La tua sensibilità però possiede anche un lato negativo. A volte ti senti in modo diverso dalle persone che appaiono sicure di sé. E pensi che le tue creazioni non saranno accolte con favore del pubblico. Ciò che ti preoccupa di più è non riuscire a mantenerti con il tuo lavoro creativo. Questa carta ti vuole rassicurare che ci saranno persone che apprezzeranno ciò che fai e ti sosterranno economicamente. Riversa l'energia d'amore nelle tue creazioni e vedrai che attrarrà a sé tutte le persone che sapranno ottenere benefici dalla tua opera. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata. 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 Vi auguro una buona giornata.